Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest Io sono Mazzetest ed è davvero troppo tempo che non entro qui in questo discreto, grazioso mondo Ciao! Ciao! Allora, mentre non c'eravate, cioè tra l'ultimo episodio e questo Credo di aver cambiato qualcosina qua, nel senso che ho aggiunto delle ceste, credo Questa è misto come questa qua, dove tra l'altro ci sono dei pezzi di fence perché c'è stato un po' un casino Adesso vi racconterò, ma niente di risolvibile Mentre poi, che cos'altro ho fatto di bello? Cosa ho fatto di bello? Non so se vi ho mostrato un camera o no, ma credo di no La soluzione del problema della farm di grano Vi ricordate che ogni tanto si inceppava e quindi ci dava un... Ok, non mi apriva più la porta, una miseria Non posso neanche più aprirmi le porte Si inceppava e finivano tutti i semini qua E ho capito perché In questo layout qua, avevo... Perché c'è della cobblestone qua? Ah, forse l'avevo buttata io l'ultima volta che sono passato di qua Comunque, avevo sbagliato e avevo messo il... Il tubo di connessione al deployer No, deployer, come si chiama? Beh, l'affare è che li piazza Non mi ricordo più il nome tecnico Quello che c'è là sotto Un blocco troppo in alto Solo che quello accetta l'input solo dal basso Di conseguenza non aveva nessun posto dove fare l'input E quindi li lasciava qua dentro nel node breaker Cioè scendevano, non trovavano niente Ritornavano su ed entravano nel node breaker E di conseguenza si bugava per forza Adesso invece li ho sistemati tutti E come possiamo vedere Non ce n'è più di semi accumulati nei node breaker Ok Mentre invece su quella fila là Probabilmente l'avevo fatto già corretto dall'inizio E quindi non c'è mai stato nessun problema E qua stiamo producendo pane e farina In gran quantità Acqua, lana E ce n'è un discreto numero tra l'altro Su questa farm è decisamente buona Ecco Sì lo so che ci sarebbero stati dei layout più efficienti Come appunto se ne era già parlato all'epoca Ma per me questo è abbastanza efficiente Anche perché Alla fin fine abbiamo Più di 5 stack di pane E 2, 4, 6 Più di 6 stack e mezzo di lana Ed è un'ottima cosa Qua invece nella farm di legna Che tra l'altro funziona alla stra mega grande E' molto costosa fatta così E' davvero molto costosa Perché per questo ho dovuto usare un blocco di mese Cioè ho dovuto usare 3 cristalli di mese per ognuno di quei note breaker Questo si era totalmente riempito di legno Quindi ho dovuto aggiungere una cesta d'oro qua Che va appunto a prendere sempre legna e mele Mentre i sapling dovrebbero andare giù sotto Poi tra l'altro dovrei controllare come siamo messi sotto i sapling Ma credo che non ci sia problema Perché comunque c'è Ha uno spazio di 9 9 stack ognuno Cioè 9 per 5 stack Se buonanotte Credo che 45 stack di sapling Non l'abbiamo ancora fatti E vabbè Qua è tutto rimasto regolare Tranne il fatto che Appunto qua abbiamo Sempre più Plastica Che non so se ce ne faremo mai qualcosa Potrò fare degli edifici decorativi Visto che Mi pare di aver Messo anche qua La Mod che avevo Descritto Nel mod spotlight Quello dei blocchi di plastica colorata Che Non sono eccelsi Ma per qualche edificio ci possono stare Ho appena aperto il mondo Quindi mi pare che dovrò Attivare di nuovo il World's Anchor Perché non so se come qua si bugga sempre Se vi ricordate Cioè che se quando io mi sposto di là Non Allora Disabilita E poi riabilita E così Dovrebbe essere Funzecante Vedete là Tutto quel casino Ho dovuto sistemare un po' E in più Si è ridotto Il La grandezza Insomma Perché c'è stato Chiudo a Chiudo questo Ho dovuto Per causa di forza maggiore Aggiungermi la possibilità di movimento libero Altrimenti non potevo andare a sbuggare giù sotto il Il Quarry Senza diciamo Perderci 50 anni della mia vita Facendo delle scalette Scendendo giù Ecco come potete vedere Qua ho sistemato un po' Ma ancora ci sono dei problemi Perché c'è lava Molta 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 Lava Infatti se vedete Tutta questa gravel Che c'è qua C'è perché l'ho piazzata io Ce l'ho piazzata per Fermare la lava Perché se Metti della Se per caso Metti della cobblestone Il casino Ecco adesso inizio a non scavare più Cribbio Cribbio Aspetta Fermati un attimo Fermati Dovresti fermarti Ok 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 Perfetto Allora il casino è che qua La lava viene da dietro Quindi dovrei fare Così 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 Dicevo utilizzando la cobblestone Il problema è che si Ripresenta Nel senso che adesso come sta scavando Sta scavando giusto Si è bugato No sembra che stia andando tutto giusto Quello è il layer giusto Però là c'è un buco Perché Vabbè Lo fichiamo noi a mano Diciamo con la cobblestone il problema Si ripercuote E poi è il turno dopo Nel senso che appena ha scavato Quella fare di cobblestone Sono lo stesso passandoci dell'acqua sopra Appena scava quello Succede l'altra lava sotto E si ripresenta il problema Punto a capo Insomma Qua dovrei anche Cercare un po' di risolvere la situazione là Cercando di non far danni altrove Perché appunto Scavando qui il layer dopo Trova di nuovo della lava Quindi si blocca di nuovo E quindi Buonato del secchio Il problema è di nuovo là Quindi Utilizzando invece la gravel La gravel va a sostituire ogni singolo blocco Perché Scende giù Precipita come anche la sabbia Solo che la sabbia Mi serve di più Questo è un pochettino Posso usarlo come materiale di costruzione Perché qua c'è ancora della Della lava C'è un altro collegamento di là probabilmente Eeeh Grandi problemi ci saranno qua E' un po' il gran casino del query qua Che Si non gli da fastidio la roba Nel senso che Se incontra del liquido Non è che si Si ferma Però ignora quella parte là E quindi Se ignora quella parte là Tra l'altro ci sono anche morto Una volta qua Con Questa storia del Fine Se scavo arriva qualcosa Ce n'è là sotto E' stato col blocco là Eeeh Sono un po' di problemi Effettivamente Infatti per quello mi sono messo Non è la creativa Ho messo semplicemente la possibilità di Movimento libero Che però è quasi come se fosse la creativa Eeeh Proprio per questo ho fatto Perché altrimenti C'è da rifare tutto il casino Spostare il query E poi dopo tanto ti troverà Dalla tra la lava di nuovo Quindi c'è da Uh Guarda quanti minerali Ma tanto guarda come ora Non abbiamo Scarsità di materiali Perché se avete visto di là C'è abbastanza Dov'è che dobbiamo atterrare Qua Ok E torniamo Eeeh Torniamo a casetta No in realtà non proprio a casetta Devo andare un attimo di là A vedere i materiali che abbiamo Perché non ho Visto con attenzione Prima quando siamo andati là Per vedere se c'è qualcos'altro Che ci serve Eeeh Ora come ora Dovremmo impostare Probabilmente Un Teleport tube Che porti i minerali Da qua sotto Alla sopra Ma che in realtà potrebbe essere Lo stesso che c'è qua Eeeh No quello non è il teleport È solo un sorting Eeeh Mese per fortuna Non ne abbiamo più grandi problemi Ora come ora Perché appunto 68 E inizieranno ad aumentare Pian pianino E il mese è uno di quelli che aumenta Più lento Di tutto il resto Cioè rispetto a Guardate quanto iron Quanto copper E quanto sil No sil Silver solo questo Infatti mi sembra Stano Il silver è davvero raro Più raro dell'oro Infatti se potete vedere Eeeh Lo zinco è anche un po' raro Ma si usa poco Mentre il silver si usa molto più In quantità La team invece ha anche grandi quantità Quindi saremo pieni di tutta Quella roba là Qua uranio E chromium E chromium dovrei metterlo di qua Ma non so se c'è ancora spazio E infatti Non c'è più spazio Per mandarlo di là Quindi Dovrei Eeeh Forse scogitare Un altro modo di sorting In modo da Eeeh Permettere un'altra distribuzione Degli oggetti Cioè fare un'altra Cesta Per i vari Minerali Oppure Ma questi Questi sono da trattare Sono tutti da trattare Perché qua Più di questo Non posso fare di sorting Perché c'è un Un collegamento Per ogni lato E alla fin fine Almeno che Non mi liberi questo Nel senso che Questo faccio un Teleport da un'altra parte E quindi non si riempi In fretta Potrei fare un teleport Boh qua E mettere qua Una sfizia Di chest No Non lo so Dovrei far scendere Di sotto Però non posso fare Neanche il resto Devo far scendere Di sotto Chromium E zinco Se cromium E uranio L'uranio Lo mando No l'uranio Lo lascio là Solo lo zinco Alla fin fine Per ora Quindi in realtà Credo che ci saranno Altri problemi In futuro Uranio e zinco E' buono E' il zinco E' il zinco e cromio Perfetto Quindi devo semplicemente Fare una sorta di Sorting diverso Per qua sopra Ecco Cioè Della serie Che Appunto Mettiamo Non lo so Una sfizia di chest d'oro Qua Che si riempiono Con la roba mista Che in realtà Potrei anche fare Con dei sorting Tipo Una con la Con la sand Una con la gravel Una con il granito Una con il marmo Ma forse no E Proprio come la trovo la roba Sì Io farei così Ma intanto Questa gravel Possiamo anche lasciarla qua Anche se forse no In realtà Mi conviene tenermene Della gravel Anzi Tenerla tutta Perché In questo modo Posso sbuggare Il Il query Senza dover andare A cercare Della gravel In giro Quindi Visto che abbiamo Un sacco di zaini Inutilizzati qua Mi metto un po' Di Gravel qua E Ottima Mouse Perfetto Quindi abbiamo bisogno Di qualche Cesto d'oro E dei Tube Ma tube Mi pare di averne visti Abbastanza nel mio zainetto 63 Infatti Non ho dei Non ho dei Sorting E dei Teleport Però La ho del mese Quindi non dovrebbero esserci problemi Più che altro Il problema è Allora Io di cosa ho bisogno Andiamo a dormire Intanto Ho bisogno di dormire Prima cosa Se siamo bugati Se siamo bugati Per terra Vabbè Ho bisogno di Cesto d'oro Il numero di almeno 5 Prendiamo dai 5 cesto d'oro I Pneumatic tube Ce li ho Per Dividere E Un teleport Questo qua Che Ah È Molto di più Di quello che dicevo Prima Sì la parte più costosa Sono i Mese crystal Però devo fare anche Il control logic unit E i copper coil Copper coil Non è un problema E questo è un pochettino Più un problema Ma me ne da due No Me ne da uno Naturalmente Scusa L'altra qual è? Ah È meno complicata Ma usa più mese E ne da due Però No 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 Usa solo un coso In più di mese Al posto che Otto Ne usa nove Però non usa Tutto l'altro Ambaradà Io credo che siamo Nella situazione In cui possiamo Assolutamente fregarci Di utilizzare Un cristallo di mese In più Prendo due blocchi Di desert stone E sei di Plastica Tanto la plastica Anche qua ne abbiamo Abizze Sei di plastica E Sto pensando L'affare di Trattamento minerali Sopra È abbastanza performante Per Quello che abbiamo noi Cioè nel senso Se io dovessi La domanda è questa Se io dovessi No che sto facendo Dammi Se io dovessi Mettere Il Il Teleport Tube Che collega La cesta di sotto All'ambaradan Di sopra Per il trattamento Minerali I minerali Riesce a trattarli In tempo Oppure Si Sfappa Tutto Grande Domandone Mi auguro Che non si Sfappi Qua Potrei Già Mettere Un Teleport Tube In realtà Un altro Quindi prendiamo Altre due Pezzi Di Così andiamo Magari a terminare Anche questo Questo query Rendendolo un po' Più Automatico Altre sei pezzi Di plastica Ce l'abbiamo Altrimenti La facciamo Cacin Sei Ehm Papero Il mese È di là Quindi dico Se io mettessi Qua il Nostro caro Teleport Tanto Non dovrebbe Legarsi all'altro Noi due Teleport Non si agganciano Vero? Ma ne ho Già sei? Oddio Ne avevo Già sei Allora Va meglio Così Non ho Bisogno Di farne Sei Sono già Un numero Enorme Perché Cosa li Ho craftati Tra l'altro Non di sicuro Questa roba qua O forse Si Boh Se lo attacco Qua Si attacca Porca Cosa Come Crebio Faccio Non è una Buona Cosa Proprio Per niente Anche perché Qua Non so Se c'è Lo spazio Per mettercelo Cioè Si Posso Metterlo Dietro Ma mi rimane Con il Buco Nel Muro Posso Metterglielo Anche sopra Certo Però È proprio Molto Antiestetico A meno Che io Non sposti La cesta Di questi Minerali Qua In un altro Luogo Che tra l'altro Non è molto Piena Quindi potrei Anche farlo Cioè Se tipo Alterno Questa E Questa Al problema Si ripropote È uguale Ci pensiamo Dopo Andiamo a fixare L'altro problema Nel frattempo Ci pensiamo E vediamo Poi che cosa fare Perché sono già passati 17 minuti Non è successo Ficco secco Di niente Quasi No vabbè Dai Qualche pro Grosso l'ho fatto No poco Niente Avete ragione E Quindi Il problema Ora è che Devo andare a fermare Con l'ambara Danla Vero Yeppola Yeppola Devo andare a fermare Con l'ambara Danla Prima di tutto No Devo prendermi Ce l'ho Un Non ce l'ho Come si chiamano Quegli affari Vabbè Ma forse Ce l'ho uno a casa Il Filter Injector Andiamo a fermare Il query Innanzitutto Che È una cosa Abbastanza Urgente Così Almeno Possiamo lavorare Tranquilli Qua come sta La roba Eh beh Ci stiamo riempiendo Di un fracco Di cactus E anche di canale E anche di canale A zucchero Temo che dovremo Poi buttare L'avanza O fermare la farm Semplicemente Allora Aspetta Fermati Ok A meno 302 Quindi tra E ho trovato E ho trovato Un bel video Esplicativo Di come costruire Una nave Di quelle Tipo Omega Galattiche E quindi Continueremo Il progetto Diciamo Delle due navi Pirata Che sono Vedete anche Avresti fatto Prima Spostare la mano Piuttosto che Item Vice Filter Injector C'è Ce lo abbiamo Nel frattempo Comunque non ho pensato Cosa si può fare Per quell'ambaradano Credo che ci dovrò Pensare Nel frattempo Off camera Non ci sono Tante Alternative Allora Qua Lui ha Un Questo è quello Che aspira Vero? Sì Dovrebbe Devo Aprirlo Però a mano Libera Mi pare Così No? Ah ma forse Non è di Quella Configurabili Comunque Se io mettessi Così E mettessi Lavorazione Non c'è Non c'è E noi andiamo Qua Questi sono I minerali Allora Qua Mettiamo Queste Facciamo Lavorazione Send only Questo Ok Ma a questo punto Abbiamo bisogno Di questo Lo sapete Che non abbiamo Una torcia Ne rubo una Qua sopra Allora Qui la rimettiamo Una blinky plant Con una torcia Vai Ok Di sto posto Ci metterà Una vita e mezza Però se non l'altro Processerà Tutto Regolarmente Avevo 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 bisogno Di fare Anche quello Con le Ceste d'oro Che non Ho preso Ma Vaffanbro Allora Facciamo qua Mettiamo questo E metto Varie Sì Send and receive E fermo La Così Ok E Dovrei togliere Questa qua Sopra Dovrei prima Svuotarla Di tutta Questa Roba Credo che avrà Un po' Di lavoretto Da fare Off camera Effettivamente Beh io Intanto vi ho spiegato Tutto Qual è La mia Intenzione Andiamo a vedere Solo se sopra Sta Processando Tutto Regolarmente Sta usando Solo Un Un percorso Però Perché manca La blinky plant Però Boh Il nostro Copper Si sta Creando E sta Anche arrivando Automaticamente A casa Nespa Dov'è che scende Poi 3 4 5 6 7 8 E 1 9 Adesso parte Eccolo Il nostro Cubozzo Di Copper E torna a casa Io quindi Posso dire Che per questo Episodio È Tutto Detto Fox Come dicevano Tipo i cartoni animati Da Warner Bros Sono 24 minuti Passati Da un pezzo Sono passati 24 minuti Da un pezzo Lo so L'italiano Io vi ringrazio Per la visione Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi al canale Se non lo aveste già fatto E Non vorrei Dimenticare Quindi lo dico Adesso Ho da fare Dei saluti Speciali Per Dei ragazzi Che me l'han chiesto In particolare I miei I miei Alunni Sia Della terza Media Che della seconda Media Che mi han chiesto Un saluto Particolare Per loro Su questo Su un video Di Mindtest E quindi Ciao a tutti Ragazzi Ci vediamo Nel prossimo episodio Spero che sarà Sabato prossimo Regolarmente Che ritorne Tutto Regolare Tra l'altro Non so se è già uscito Il video del contest Spero di sì Se no Tenetevi pronti E partecipate Al contest Ciao 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 Ciao